C'era una volta un leone di nome Noach, che viveva in una grande savana africana. Noach era un leone molto forte e coraggioso, ma anche molto solitario. Non aveva mai avuto un branco o una famiglia con cui condividere la sua vita. Questo è World Animale e oggi conoscerai la storia di Noach, un coraggioso solitario che trova la sua famiglia. Questo tipo di contenuti richiede molto tempo per essere realizzato, quindi ti chiediamo un favore di iscriverti al canale e lasciare il tuo mi piace. In questo modo ci aiuterai a produrre sempre più contenuti come questo, grazie in anticipo e una buona visione. Un giorno, mentre stava esplorando la savana, Noach incontrò una leonessa di nome Luna. Lei era ferita e indifesa e Noach si sentì immediatamente attratto da lei. Decise di aiutarla a guarire e di prendersi cura di lei. Con il passare del tempo, Luna e Noach diventarono molto amici. Passavano tutto il loro tempo insieme, esplorando la savana, caccia e giocando. Noach si sentiva finalmente felice e appagato, perché aveva trovato qualcuno con cui condividere la sua vita. Ma purtroppo, la felicità di Noach e Luna fu di breve durata. Un giorno, mentre erano in caccia, incontrarono un branco di leoni rivali, guidati da un leone malvagio di nome Shadow. Shadow era invidioso del legame che Noach e Luna avevano creato e decise di attaccarli per distruggerlo. Noach e Luna combatterono con tutte le loro forze, ma erano in minoranza e non riuscirono a vincere. Alla fine, Noach fu gravemente ferito e Luna fu catturata dai leoni rivali. Con il cuore spezzato, Noach si mise in viaggio per salvare Luna e vendicarsi di Shadow. Affrontò molti pericoli e superò molte sfide lungo la strada, ma alla fine riuscì a sconfiggere Shadow e a salvare Luna. Luna e Noach vissero felici e contenti per il resto dei loro giorni, insieme al loro branco di leoni fedeli. Noach aveva finalmente trovato la famiglia che aveva sempre desiderato e non era mai stato più felice. La storia di Noach ci insegna che anche nei momenti più difficili della vita, c'è sempre speranza. Noach, un leone solitario all'inizio della storia, attraverso la sua determinazione e il suo coraggio è riuscito a trovare l'amore e la famiglia che cercava. La sua lotta contro la solitudine e l'invidia degli altri rappresenta un esempio di come, nonostante le difficoltà, con la forza di volontà e il desiderio di cambiare le cose si può ottenere ciò che si vuole. Cosa ne pensi di questa storia del leone Noach? Lasciate la vostra opinione nei commenti. Cosa ne pensi di questa storia di Noach? Lasciate la vostra opinione nei commenti. Grazie.